Buon pomeriggio a tutti, siamo qui con Asuarello Essini di Rai News, io sono Sabrina Martucci, coordinatore del Master su Terrorismo e Prevenzione della Radicalizzazione Aversiva dell'Università degli Studi di Bari. Siamo qui per riflettere e condividere con voi questo breve tempo, questo piccolo spazio di tempo che ci dà la Fondazione su un tema abbastanza complesso, il Mediterraneo al centro delle sfide globali. Ringrazio innanzitutto Asuarello Essini di aver accettato il nostro invito e anche il dottor Giannuzzi e la dottoressa Mazzucca per aver voluto proseguire nella collaborazione, come negli scorsi anni, la condivisione di questi momenti di riflessione e anche approfondimento delle tematiche che guarderemo insieme nell'ambito di quelli che sono anche gli interessi del Master dell'Università di Bari. Il tema è abbastanza complesso, quindi abbiamo scelto di dare un taglio prevalentemente geopolitico e di verificare un po' se ci sono dei margini di proiezione verso questo macro tema della scoperta del futuro, di quello che effettivamente diventerà il futuro di quest'area regionale. e soprattutto di vedere come l'onda d'urto del 7 ottobre 2023 abbia ancora impattato sullo scenario che ancora stamattina ci prendeva, ci rapiva su tutti i quotidiani e non soltanto. Cercare di capire insieme come in particolare questa onda d'urto è ricaduta sul rapporto fra migrazione e sicurezza. Io penso che se oggi dovessimo un po' giocare anche con le immagini e chiedere a ciascuno di voi cosa ci viene in mente nel momento in cui utilizziamo la parola mediterraneo, certamente non torniamo alla culla delle culture, ma immaginiamo un insieme di sfide che appunto da locali regionali diventano sempre più spesso globali e che ci lasciano e ci portano, ci mettono a delle immagini che molto spesso sono di sofferenza. E quindi forse ecco quello che è l'impatto del 7 ottobre 2023, che ci tocca prevalentemente per tematiche che oggi qui non toccheremo ma che comunque sfiorano, lambiscono il tema del rapporto tra sicurezza e migrazioni, credo ci metta a riflettere su quanto soprattutto la sponda sud del Mediterraneo oggi possa essere ancora intesa come confine fisico-territoriale fatto appunto di materialità o quanto sia invece un prolungamento della striscia, nel senso appunto della striscia di Gaza e di tutto quello che impatta diventando una striscia altamente permeabile. Non mi piace mai usare quell'immagine bruttissima, terribile, forse che è un po' di anni fa, nel 2016, ha coniato anche Bauman, un mar Mediterraneo come un mare di morte. Io credo che questa sia proprio l'immagine da non considerare e da non tenere appunto nelle nostre discussioni. Però ecco, tutti noi credo stiamo costruendo uno stereotipo ancora una volta che ci immette proprio ad una dimensione critica ogni volta che pensiamo al concetto di Mediterraneo. Possiamo tornare a riflettere sul futuro, ad analizzare la situazione attuale, pensando che un po' possa portarci verso delle nuove meditazioni. Qualche giorno fa rileggevo per una vicenda giudiziaria, io sono un giurista, le orazioni contro Verra e di Cicerone. E lì c'era un punto molto interessante che mi serviva per argomentare una sentenza, nel quale lui assume, decide di assumere la difesa della regione Sicilia per il mal governo che era stato appunto. E quindi per l'incapacità, insomma, dei governanti e quindi di Verra, di riuscire a bilanciare tra diritto e sicurezza, ma soprattutto di riuscire a bilanciare appunto il controllo del mal governo e dell'estorsione, e lui parlava appunto di pirateria, rispetto a quello che invece era il dominio del diritto. E quindi ti chiedo, le democrazie, ecco questa metafora, ha una ricaduta secondo te. Innanzitutto ringrazio, ringrazio quelli che stanno con noi oggi. Io adoro questi momenti, perché sono quei momenti fuori delle logiche televisive, no? Noi siamo abituati al minutino, minutino e mezzo per ragionare e spiegare le cose, è impossibile approfondire qualsiasi cosa con il minutino e il due minuti. Per cui è un momento per me sempre, soprattutto con i giovani, di ragionare sul futuro, sul presente, sul passato, delle cose, soprattutto quando si parla del Mediterraneo. Io appartengo, diciamo, alla sponda sud, ma ho studiato in Spagna e dopo lavoro in Italia da quasi 30 anni adesso, e 24 anni in Rai, per cui credo che da solo posso sintetizzare tutta una specie di vita in cui il Mediterraneo ha una grande importanza per me. Io ho vissuto sia le due parti. E una delle cose, mentre stavi parlando, che mi veniva in mente, era innanzitutto guardiamo il presente e ci renderemo conto che c'è già una differenza tra la parte nord del Mediterraneo e la parte sud del Mediterraneo. Addirittura, io sono di Tangeri, una città nord del Marocco, e vicino a 60 km di Tangeri c'è un'inclave spagnola che si chiama Ceuta. In questa inclave, tu, innanzitutto l'orario, molte volte la differenza dell'orario è di due ore tra la Spagna e il Marocco, soprattutto durante il Ramadan, e stranamente tu stai in questa parte, sono i 10 del mattino, fai un passo e stai al 12 del mattino. Non si sa perché, ma è così. È una logica che quando stai lì, lo noti, lo vivi, ti rendi conto che già iniziano le differenze. E dopo, adesso un po' meno, ma fino agli anni 80, con la frontiera tra Messico e Stati Uniti, quella della Spagna e il Marocco era dove c'era una grande differenza tra ricchi e poveri, la Spagna è ricca e il Marocco è povero. Adesso un po' meno perché il Marocco qualche passo in avanti lo ha fatto. Ancora non è sufficiente, ma qualche passo si è fatto. Per cui, i fatti sono questi. In questo momento, noi, mi stavi parlando della democrazia. La democrazia è un elemento, tra altri elementi, innanzitutto la ricchezza, la stabilità. Andiamo a vedere che paese abbiamo sotto. Dopo la primavera araba, 2011, abbiamo Tunisia, quasi un non è stato, perché ritorno a una dittatura. Libano, non c'è uno stato. La Siria, non c'è uno stato. La Libia, lo stesso. Noi, in pochi anni, il sud del Mediterraneo, che probabilmente, non solamente la democrazia, ma un cambiamento che noi abbiamo sperato con la primavera araba, che poteva portare questi paesi a migliorare il loro modo di vivere e che ci aiutava anche a noi, perché io molte volte quando parlo con gli amici, soprattutto quelle che decidono, nella politica italiana, sempre mi faccio la domanda, ma come l'Italia, che alcune volte non è cosciente della sua importanza geopolitica, perché basta vedere una mappa e vi renderete conto che l'Italia proprio scende all'interno di questo Mediterraneo e che poteva avere un ruolo, invece il caso della Libia, che è il nostro fondo strategico, perché parlo del nostro perché sono anche cittadini italiani, per cui dico, il nostro fondo strategico noi lo abbiamo lasciato così, all'abbandono, lasciando che per esempio i francesi e gli inglesi, che hanno deciso, in quel momento quando c'era Sarkozy e Cameron, e hanno deciso di fare quello che hanno fatto in Libia quando l'Italia doveva dire no, non perché ci va o perché ci piace, la politica internazionale è basata su interessi, interessi, principi, queste cose dimenticate, siete giovani e mi dispiace distruggervi questo sogno, però rendetevi conto già da adesso che nella politica internazionale non c'entrano niente i principi, non esistono, esistono interessi e per l'interesse dell'Italia la Libia doveva rimanere stabile, come per il momento stabile, e dopo si vedrà. Per cui il problema reale è, dal mio punto di vista, quando vediamo il momento attuale, non è che uno arriva a conclusioni molto molto ottimistiche, perché la situazione è quella che è, che abbiamo, basta dare un'occhiata in tutti questi paesi, e noi della sponda nord del Mediterraneo non è che stiamo benissimo, perché noi allo stesso tempo, non lo so, l'impressione, e ve lo dico anche a voi giovani, che ci siamo abituati a che cosa è la democrazia e non ci rendiamo conto che si può perdere in qualsiasi momento. La libertà non è una cosa acquisita, è una cosa che tu devi lottare ogni giorno per difenderla. La democrazia ha bisogno di essere difesa e se noi vediamo che cosa sta succedendo nel mondo, in generale, nel mondo occidentale, in particolare, vi renderete conto che discorsi di odio, di xenofobia, iniziano a essere il pane quotidiano e noi lo accettiamo. E quello fa parte di una, secondo me, ci porterà anche noi a perdere il vantaggio vero che abbiamo e che ha l'Europa da sempre, che è la democrazia, la libertà, difendere una specie di equilibrio anche a livello economico, non c'è grandi differenze tra i ricchi e i poveri, almeno fino a poco era così, invece noi stiamo andando, siamo noi che siamo realmente in pericolo perché noi stiamo perdendo una cosa che ci ha dimostrato, che per 70 anni ci ha evitato delle guerre, ci ha portato a avere una convivenza, perché alla fine la democrazia è semplicemente creare una situazione che ci permette di risolvere i nostri conflitti senza arrivare alle guerre. Invece, in l'altra parte, in l'altra sponda del Mediterraneo, purtroppo, molte volte, questa è l'unica strada per portare uno a governare o con colpi di Stato. Per cui, questo è, secondo me, il primo elemento da prendere in considerazione, queste differenze che ci sono tra la sponda nord e la sponda sud. Il secondo elemento è l'incapacità della sponda sud di unirsi e di mettersi d'accordo su una visione politica e anche economica per poter diventare un interlocutore alla sponda nord. Ossia, un Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Mauritania, anche se non è il Mediterraneo, però comunque fa parte del Maghreb, l'Egitto, questi hanno tutti gli elementi per, in caso di una unione, al di là che l'unione è di fatto, perché sono popoli, che hanno la stessa cultura, la stessa lingua, hanno tutto, però non riescono a creare un mercato unito, non riescono a creare niente che può portare questi paesi anche a fare una specie di allianza tra di loro per poter negoziare, difendere i loro interessi quando parlano con l'Occidente. Quasi tutte le frontiere sono chiuse tra questi paesi. Dal 1994 la frontiera tra il Marocco e l'Algeria è chiusa e adesso anche un aereo non può volare tra l'Algeria e il Marocco. Non solo, la distanza tra Ujda e Marnia, che è una città all'est del Marocco e all'ovest dell'Algeria, sono 60 chilometri, ma se uno vuole andare a visitare la sua famiglia, perché sono delle famiglie, sono stesse famiglie, deve andare fino a Casablanca per fare 5-6 ore di macchina, anche di più, prendere l'aereo, andare fino all'Algeria e fare altre 10 ore per arrivare a Marnia, quando la distanza è di 60 chilometri e che si può risolvere. Però dal 1994, io una volta ho un incontro con l'ex Javier Solana, che era l'ex segretario della Nato, in un incontro in Sicilia, lui aveva detto una frase che mi ha colpito, anche perché appartengo a quel territorio, e lui ha detto che il problema vero che distrugge ogni possibilità di dialogo nel Mediterraneo non è il conflitto arabo-israeliano, ma il conflitto che c'è tra il Marocco e l'Algeria. E quando ha detto questa frase mi sono reso conto che è vero, alcune volte noi non ci rendiamo conto che vediamo alcuni aspetti e ci dimentichiamo che ci sono altri, probabilmente molto più conflittuali, come in questo caso. Io l'anno scorso ho fatto un reportage per Rai News, per far vedere questa frontiera, perché è difficile oggi, soprattutto in Italia, spiegare veri problemi a livello internazionale, perché l'agenda di Ulpaninsesto, dei nostri telegiornali, dà più importanza a una notiziosa in Italia, che molte volte non ha nessuna importanza a livello mondiale, che andare a cercare delle notizie vere nel mondo, spiegare quanto è importante, non so, le notizie su Taiwan e la Cina è molto più importante di qualsiasi cosa che noi possiamo raccontare qua, perché lì stiamo davanti a un conflitto che è quasi un conflitto che fa vedere anche la lotta vera, l'unico problema vero da affrontare a livello mondiale, che è la lotta tra una potenza che emerge, che è il caso della Cina, e la potenza esistente e dominante, che è quella americana, per esempio, è molto più importante quella notizia, invece noi ci dimentichiamo di questi fatti. Per cui, ripeto, il Marocco e l'Algeria per esempio sono un problema, l'Algeria e la Libia, un altro problema è che c'è un conflitto di frontiere, la Libia e l'Egitto, frontiere, l'Egitto, anche se Sudan non è il Mediterraneo, ma in Sudan c'è una guerra civile che noi quasi non raccontiamo, non raccontiamo i conflitti che esistono, non lo io, ma non è il Mediterraneo, ma è molto vicino al Mediterraneo, e ha una grande influenza su di noi. Per cui, secondo me, anche raccontare il Mediterraneo, così, raccontando i fatti, spiegando, non solamente perché adesso c'è il conflitto tra palestinesi e israeliani, e noi raccontiamo anche il fatto, e come sempre, ci bisogna di raccontarlo, perché tutto sta diventando una questione di narrazione, non una questione di fatti, dipende chi racconta, quando racconti, a che ora, con chi, e con molte, molte autocensura, e censura perché tu hai paura di dire qualcosa che può offendere qualcuno, e diventa tutto un casino, invece, i fatti sono quelli che sono, c'è un conflitto, che è molto grave, e facendo il master sul terrorismo, uno può anche immaginare un conflitto che continua dal 1948, e continua, e ci sono persone che vengono uccise tutti i giorni, ma questo, al di là di, senza dire chi ha ragione, chi non ha ragione, perché mica stiamo davanti a una partita di calcio, che dobbiamo tifare, il fatto che se continuiamo in questa strada, avremo terrorismo anche nel futuro, cioè questo è un fatto oggettivo, non c'entra niente, e prima anche stavamo parlando di, di quello che sta succedendo adesso in Libano, un'altra cosa che a me mi fa ragionare, e cerco sempre di spiegarla, in questi incontri, che grazie a Dio che esistono, e che possiamo anche ragionare un po', perché sì, no? Ci sono fatti simbolici che noi, in Occidente, non riusciamo a decifrare, e quando non riusciamo a decifrare, non riusciamo nemmeno a spiegare cosa sta succedendo veramente. La logica nostra, occidentale, è una logica quasi uno più uno sono due. Il Medio Oriente non è detto. Il uno più uno non è sempre due. Può essere altre cose. Per cui noi, quando stiamo leggendo quello che c'è nel Mediterraneo, dobbiamo andare al di là di quello che noi vediamo, e cerchiamo di capire anche le simbologie. E una delle cose che mi viene, che sto cercando di spiegarla, per esempio, guardate che cosa è successo il 7 ottobre. Ripeto, al di là di chi ha ragione, il 7 ottobre Hamas, quando è uscito Ismaele Aniyah a raccontarlo, so che stiamo un po' fuori, però è semplicemente per spiegare, lui lo ha presentato come una umiliazione all'esercito israeliano. Siamo riusciti a fare un attentato quando Israele diceva che poteva difendere l'Arabia Saudita, poteva essere utile per tutto il mondo sunnita. No, e che cosa fa? Fa questo attacco che sembra una sconfitta alla sicurezza israeliana, probabilmente lo è, però non è che lo hai fatto e sei stato zitto. No, no, tu sei uscito in tv dicendo che li abbiamo umiliati. Ok, guardate che cosa sta succedendo in questo momento. Aniyah lo hanno ucciso in Iran, a Tahrani. Non c'è un'umiliazione più grande che andare a ucciderlo a Tahrani. Potevano ucciderlo a qualsiasi parte, no, no, no. Hanno deciso di ucciderlo là, perché è un messaggio. Io non voglio vincere la battaglia, io ti sto umiliando, io lo sto facendo là. Adesso la stessa cosa hanno fatto con Hezbollah. Io non voglio uccidere i tuoi leader, no, no, io lo faccio con un'operazione adesso al di là di qualsiasi, se noi ragioniamo con freddezza, è un'operazione geniale. Geniale. Hanno preso, hanno creato una società, hanno fatto questi chiamepersone. Questa è un'operazione molto sofisticata. Però, al di là dell'intelligenza che c'è dietro, il messaggio è io posso attaccarti ovunque, io posso massacrarti ovunque. Ci sono messaggi che si stanno mandando tra di loro. Peccato che c'è gente che muore. però il risultato che noi, dal nostro punto di vista occidentale, stiamo cercando di vedere chi ha ragione e chi non ha ragione. Ma lì non ha nessuna importanza questo. Quello che ha importanza è che la logica è diventata, e per questo io sono molto pessimista in questo senso, che invece di aprire le porte a qualsiasi possibilità di dialogo, c'è solamente una unica via che si è lasciata aperta. Quella della guerra e dell'eliminazione dell'altro e dell'umiliazione dell'altro. Non è più sufficiente vincerlo, ma umiliarlo è diventato. Questo è molto importante in una visione medio orientale, dove l'offesa, se c'è qualche siciliano qui lo può capire. E in senso, ci sono cose che vanno al di là della nostra razionalità. Per questo dico, l'Occidente, per ragionare sul Mediterraneo, deve capire anche questi aspetti. Deve rendersi conto che non è più possibile fare analisi egocentrici o etnocentrici. Dobbiamo avere la capacità di aprirsi per capire i vari punti di vista e uscire con delle conclusioni e finire, come ho detto prima, a vedere dove sono i nostri interessi. Come Occidente, come Europa, come Italia. Se tu vuoi, puoi continuare. Io vedrei un attimo il video e poi ti porgo la seconda domanda. se c'è il nostro assistente tecnico che può mandare il video. Arriva. Mi prego soprattutto di ascoltarlo. Questo è successo il 15 settembre. Un po' che giornali in Italia ne hanno parlato. La musica che voi sentite dietro realmente sono una specie di una cosa religiosa che si fa in la Mecca. Se voi avete in testa la Mecca dove c'è la Caba, quando i musulmani fanno quel giro sette volte ripetono questa specie di prighiera che più o meno nel senso siamo qui Dio siamo qui ascoltiamo il tuo messaggio tu sei unico non c'è un altro Dio è una prighiera. Però l'immagine che voi vedete sono molti maghribini molti sono marocchini ma non solo che hanno si sono messi d'accordo tramite social media per andare a migrare in Spagna in Spagna e Ceuta quello che vi ho spiegato prima dove c'è la frontiera tra il Marocco e la Spagna no? Questa enclave dentro dell'Africa che che il Marocco considera territorio occupato e che spagnoli considerano territorio spagnolo molti si sono messi d'accordo per andare lì come vedete guardate quante persone e questa è una notizia che non è stata data in molti meno alcuni giornali europei qui in Italia per esempio non abbiamo dato tanta importanza quando si vedete la quantità e la voglia di queste persone certo lì dipende anche delle letture la lettura critica in Marocco guardate con tutta il Marocco fa ultimamente di crescita al 3 il 4 anche il 5% ogni anno da 1990 per cui ha fatto una crescita però con tutta quella crescita quando qualcuno ha chiesto ai giovani soprattutto molti di loro sono molto giovani di partire di lasciare il Marocco guardate che cosa è successo o i magribini perché ci sono anche hanno trovato alcuni sono algerini altri sono tunisini che hanno trovato la frontiera con questa chiamata e hanno alcuni hanno preso anche l'aereo per venire fino là per provare la lettura dell'autorità marocchine che hanno dimostrato alla Spagna che le autorità marocchine hanno fermato questa questo diciamo questa conquista questo flusso l'hanno fermato e questo porta che i spagnoli considerano il Marocco un interlocutore valido per firmare l'immigrazione perché c'è un problema di l'immigrazione che esiste in Europa non possiamo chiudere le occhi e che molti partiti politici usano questo argomento serio che bisogna affrontarlo con serietà invece viene usato molte volte solamente per motivi elettorali invece di vedere di trovare una soluzione però come si vede guardate la quantità non so quanti sono però le cifre erano molto alte io ho visto tante altre immagini possiamo anche far vedere altri video per far vedere che questo per esempio era un problema è un problema serio questi sono molti questo è il governo marocchino sono il presidente del governo marocchino ministro di la giustizia ministro di trasporto sono anche leader dei partiti politici marocchini e questi marocchini molti di loro alcuni questo per esempio insiste che lui non vuole andare in Europa per cercare soldi o per diventare ricco lui vuole andare in Europa perché nel suo paese è trattato male umiliato parlando di umiliazione che abbiamo detto prima umiliato non posso dire la mia non posso esprimermi ho paura che mi portano in galera anche se il marocco ha fatto passi in avanti dei diritti umani però non è sufficiente bisogna essere onesti e non è sufficiente quello che si è fatto fino adesso questi guardate l'età sono quasi tutti giovanissimi giovanissimi e si lamentano di che non hanno futuro in loro paese non so fino dove è vero non è vero ma l'impressione che hanno questi ragazzi che l'Europa è il paradiso che lui invece di fare il minimo di sforzo per migliorare la sua realtà all'interno del suo paese vede che fuori deve andare fuori perché è l'unica l'unica salvezza io molte volte scherzando dico perché ci sono alcuni programmi televisivi che in marocco si vedono no? la tv spagnola adesso si vedono tutte le tv però io anche quando io ero giovane vedevamo la tv spagnola e la tv spagnola tu vedevi uno che va in un programma che risponde a delle cose stupide e gli dà un sacco di soldi dopo bellissime ragazze tu hai la mente che l'Europa basta che entri e iniziare a buttarti i soldi a trovare donne belle e purtroppo l'immaginario creato anche tramite i mass media europei è una immagine di paradiso anche se tu stai minimamente bene dici ma beh però il paradiso sta là e molti dovevano immaginare anche che a livello culturale non è alto questi ragazzi non hanno studiato molto il problema della scuola in marocco è un problema serio perché la scuola pubblica non funziona funziona meglio la scuola privata in marocco soprattutto purtroppo la differenza tra anche queste ricchezze che noi che si vedono in marocco purtroppo sono divisi malissimo perché c'è una minoranza che sta straricca e la stragrande maggioranza è povera per non dire stra povera per cui tutto questo ha dato quello che voi vedete questi ragazzi cercano vedete il mare dietro perché a nuoto se tu fai a nuoto se uno di voi va in questa zona si renderà conto che è molto vicino è questione di a nuoto una mezza oretta e stai già all'altra sponda per cui i soldati i poliziotti marocchini si sono messi in mezzo per non lasciare passare questi immigrati dopo l'ultimo pezzo era un servizio credo fatto della tv della tv francese che racconta questi questi fatti che è questo potete vedere le immagini in Mauritania in Senegal e in Gambia per promuovere una migliore cooperazione con questi paesi dove una parte dei migranti trova la morte nel Mediterraneo tentando di rinforzare l'Europa ok come vedete si capisce non credo ci bisogna tradurre però questo è un problema secondo me serio qui in Italia ne abbiamo parlato pochissimo per non dire non ne abbiamo parlato e questo se noi aggiungiamo le altre problematiche che abbiamo detto quello che noi stiamo vedendo tra palestinesi israeliani i conflitti tutta la zona di sponda sud del Mediterraneo ci rendiamo conto almeno ragionare tra di noi su questi argomenti vale la pena non cambieremo le cose però almeno cerchiamo di capire che le problematiche sono molto più complesse di quello che noi pensiamo cioè in questa complessità io leggo ecco nelle tue parole un rapporto interessante fra il sogno che ci racconti di molti di questi ragazzi e poi una sorta di futuro negato quando arrivano se riescono ad arrivare ma sai io sono di quelli che considero che il mondo da molti anni credo da sempre però adesso con i mass media con questi social che bisogna differenziare tra la realtà e la concezione che abbiamo noi di quella realtà è una grande differenza la realtà può essere negativa come vogliamo ma la percezione che conta la realtà può essere diversa di quello che noi percepiamo io sono di quelli che vado spesso in Marocco e io vedo in Marocco grandi potenzialità sono tornato la settimana scorsa di Kazakistan chi ne ha sentito io se un giovane italiano mi dice a me vuole immigrare dico vai a Kazakistan non stare lì a pensare due volte perché è un momento di boom economico hanno trovato il gas Astana è una città modernissima bellissima stanno cercando persone che hanno un savoir faire un giovane italiano qualcosa saprà fare io gli dico vai lì invece di cercare non so dove l'immigrazione è un fenomeno mondiale però attenti le cifre di ieri se voi leggete i giornali italiani che hanno lasciato l'Italia giovani hanno superato centomila centomila giovani che hanno trovato opportunità in Italia che differenza c'è realmente tra questi giovani e un giovane italiano che il giovane marocchino ha bisogno di un visto Schengen perché se tu togli il visto Schengen centomila può andare dove vuole questa è la differenza noi notiamo la nostra percezione perché c'è un visto che li vieta di partire verso la Spagna verso l'Italia verso Irlanda verso i paesi Schengen e invece se noi andiamo a vedere cosa succede nel mondo in Spagna la stessa cosa in Spagna le cifre di giovani spagnoli che non sono contenti della loro vita in Spagna sono tanti e hanno lasciato la Spagna queste sono le realtà che io conosco per cui insisto che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che noi dobbiamo studiare con molta attenzione mettendo in considerazione che se non cambia la situazione nel sud del Mediterraneo questo è un fenomeno che ci sarà sempre i paesi della sponda sud devono o dobbiamo devono loro perché io sono contro pensare immaginare che tu esporti democrazia o esporti è una follia per cui questi paesi devono avere la coscienza che le cose devono cambiare e per cambiarli bisogna bisogna informare e informare bene e raccontare le cose realmente come sono noi molte volte non facciamo questo noi noi cerchiamo di uno di ascoltare quello che ci conforta a noi quello che conferma già le nostre idee no? uno due non siamo più abituati a ragionare a noi anche per me non sta un'informazione vabbè non c'è una importanza tre può essere che abbiamo ragione hanno ragione quelli che non stanno perché ok abbiamo ragionato abbiamo pensato e abbiamo anche capito però che cosa cambia? niente perché la politica ha altre logiche i politici hanno un altro un altro un altro modo di vedere le cose io questa inizia a diventare una disperazione sarà anche per sport diciamo una ginnastica intellettuale che noi dobbiamo continuare a fare perché questa è la differenza tra noi e gli animali e cercare di ragionare di capire che cosa il mio mistiere diciamo è cercare di spiegare a un italiano un occidentale essendo anche uno che conosce la cultura e la trasfonda di spiegare alcune sfumature che molte volte scappano scappano a chi giudica rapidamente a chi considera vabbè basta che non entrano questi immigrati sì però puoi anche dire quello che vuoi puoi anche uscire fare il tuo spot pubblicitario ma hai visto se se la polizia marocchina per non lo so per esempio le autorità marocchine decidono di dire o hanno un conflitto con la Spagna immaginiamo e vogliono creare una pressione basta che si allontanano e li lasciano davanti a quel fatto se tu non hai trovato un accordo con i paesi della sponda sud se tu non hai trovato il modo di collaborare o anche di dare coscienza a questi paesi che devono migliorare la loro vita all'interno tu avrai sempre questo problema in Marocco c'è un altro problema che ha creato anche il razzismo vi sembrerà assurdo vi parlo del Marocco perché lo conosco ma si può parlare della Tunisia c'è il razzismo contro i neri perché africani che vengono e che vogliono andare in Europa molti di loro non riescono a passare rimangono in Marocco rimangono in Tunisia rimangono in Algeria soffrono razzismo qui almeno ne parliamo lì nemmeno lì soffrono e basta per cui voglio dire che le problematiche sono così complesse che noi dobbiamo affrontarli con molta pazienza diciamo per non dire altro una battuta finale poi chiederò appunto se c'è qualche intervento qualche giorno fa mi dicevi perdiamo popolazione come gli aspetti demografici e soprattutto le migliaia di persone che stanno morendo in questi conflitti cambieranno la storia o riscriveranno la storia delle migrazioni a breve in uno scenario proprio a medio termine fatti perché io sono uno che cerca di vedere i fatti qual è il fenomeno che noi vediamo noi la sponda nord tu no io posso permettermelo siamo già vecchi noi siamo vecchi noi è una società vecchia dove i vecchi sono la maggioranza la sponda sud la maggioranza sono giovani meno di 30 anni la stragrande maggioranza per cui questi spingono al futuro al cambio a non ragionare più di tanto noi uno quando è arrivato alla mia tenera età pensa diventa anche conservatore diventi hai paura per le tue cose è normale è la normalità invece già a livello demografico noi abbiamo due cose totalmente diverse noi siamo contenti con quello che abbiamo lì non sono contenti e vogliono migliorare vogliono cambiare però qual è l'elemento che noi non riusciamo a spiegarlo lo dico noi anche in questo caso come marocchino come uno che appartiene a quella parte di convincerli è che il cambio si fa dall'interno che tu puoi cambiare la tua realtà lavorando questa energia che tu hai spendela in tuo paese invece di di seguire un sogno che noi sappiamo che uno o due per cento realizzeranno quel sogno ma la maggioranza vive male io li vedo molti stanno anche per cui il futuro dal mio punto di vista parte da un'analisi e questo lo devono fare il decision maker non noi noi possiamo opinare possiamo dire alla gente che cosa vuole o almeno dare un'analisi molto più articolata o precisa però chi decide deve rendersi conto che tutto è l'essere umano se tu non ragioni sull'essere umano sul cambiamento che l'essere umano sta conoscendo sulla cultura sull'educazione in quei paesi dando anche la possibilità che uno si senta perché uno che si sente bene in suo paese non lo lascerà mai per questo secondo me il fenomeno vero è demografico in questo senso noi la società nostra non fa altro che invecchiare le società lì sono giovani io ho parlato solamente del Maghre perché stiamo parlando del Mediterraneo però se noi andiamo a vedere tutta l'Africa la situazione è ancora più grave grazie ci sono delle domande dal pubblico prego abbiamo delle persone che ci seguono anche online quindi è più carino farci sentire grazie io forse do un po' per scontato che anche poi parlando del caso dell'immigrazione queste persone comunque soffrono una condizione di vulnerabilità economica che per quanto il GDP e la crescita possa nascondere magari le dinamiche di disuguaglianza e altre problematiche sociali comunque spingono a partire verissimo è che magari c'è ancora permane questa idea dell'Europa un po' meticizzata e idealizzata però riflettendo sulla questione delle disuguaglianze e delle vulnerabilità non dovremmo anche porci il dubbio in quanto europei in quanto italiani di creare delle condizioni o contribuire a partire proprio dal commercio si parla si parla tanto di ristabilire le dinamiche di cooperazione nel mediterraneo ma anche esatto perché apparteniamo a delle culture uniche e insieme possiamo sfidare anche la globalizzazione quanto dovremmo riflettere poi sul commercio su quanto per andare proprio ad incentivare quella portata di interessi specifica che sta alla base della geopolitica come ricordava dovremmo in realtà riflettere su quanto a livello di bilancia commerciale e di commercio internazionale siamo responsabili anche di causare determinate disuguaglianze non so se è chiaro è chiaro chiarissimo vuoi rispondere a te? vai vai no 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 io in Italia abbiamo visto alcuni progetti che credo il progetto Mattei per esempio questa idea di investire in Africa non so se è sufficiente io la mia impressione è che che è logico chi fa una cosa la fa pensando ai suoi propri interessi adesso c'è una grande penetrazione cinese io non so se per un africano è meglio lasciare entrare un cinese o lasciare entrare i francesi hanno già dimostrato cosa fanno cosa vogliono fare che cosa faranno 14 paesi ancora funzionano con il franco francese senza l'autorizzazione delle banche francesi non possono fare operazioni 14 paesi africani oggi non ieri oggi per cui l'approccio tuo che è una persona per bene che tu immagini un mondo dove cerchiamo di aiutarci tra di noi va benissimo anche io alla tua età lo pensavo più passa il tempo più arriva la vecchiaia più mi rendo conto che l'unica cosa che conta sono gli interessi come possiamo spiegare però a un europeo che il suo interesse anche commerciale è investire un paese africano in marocco in algeria in tunisia in un paese del maghreb questo è una cosa se vuoi ti racconto alcuni un episodio di esperienza personale molti italiani quando si avvicinano a me o alle autorità marocchina perché mi hanno raccontato l'ambasciata marocchina l'unica cosa che gli interessa è sapere se ci sono appalti significa appalti significa se c'è una cosa già sicura io vado lì mi danno tot faccio quello che mi hanno chiesto torno con un sacco di soldi non c'è una visione che io vado lì a investire a rischiare non c'è c'è solamente c'è il guadagno vado non c'è il guadagno non vado i spagnoli per esempio sono stati perché i spagnoli geograficamente sono più vicini per cui l'investimento è aumentato tantissimo negli ultimi anni molti spagnoli hanno rischiato con i loro soldi però lì il gioco è un po' più facile perché alla fine il Marocco sta a 14 km gli interessi sono ancora più chiari e c'è tutta una parte del Marocco che parla spagnolo per cui gli interessi sono più chiari i francesi tre quarto dello stesso per la storia della colonizzazione hanno ancora un'influenza nella classe dirigente del Marocco Italia per esempio no io quando vedo che adesso i brasiliani stanno entrando a investire i cinesi non ti dico sia in Marocco che in altri paesi africani noi cinesi stanno dominando ovunque i cinesi hanno fatto ultimamente una riunione con i paesi africani hanno ingettato 50 miliardi di dollari se questi vanno a investire però io per l'Africa non so se va bene che questa penetrazione cinese aggiunge a questa penetrazione cinese quella russa e hai già un panorama che a me preoccupa ci sono altre domande prego sì grazie siccome si parlava un po' dei decision makers che dovrebbero essere quelli che cercano di influenzare una transizione più democratica una liberalizzazione non spettamente economica però interna mi chiedevo quali dovrebbero essere questi interlocutori magari privilegiati a vostro modo di vedere se possono essere alcuni stati in azione nello specifico alcuni governi o l'Unione Europea e in questo contesto che futuro vedete per il nuovo commissario del Mediterraneo individuato in questa nuova commissione è chiara la domanda il fatto che c'è significa che è importante il Mediterraneo però io sinceramente più passa il tempo non non io spero spero che i politici europei si rendino conto che non c'è un'altra scelta e veramente dobbiamo presentare anche per per noi per il nostro pubblico che questa è una barca o si o ci liberiamo tutti e ci difendiamo tutti ci aiutiamo tutti o sarà un un casino per tutti anche perché l'Europa anche pensa di essere molto importante ma se voi vedete la geografia e la geopolitica molte cose sono già andate verso altre realtà ho raccontato il Kazakistan ha una frontiera enorme con la Russia e un'altra enorme con la Cina e vi posso assicurare che la storia si sta spostando lì se tu vedi una vita che tu non vedi più qua nel senso vedi una vita economica una vita degli interessi per questo dico che l'Europa deve rendersi conto che il Mediterraneo soprattutto il sud del Mediterraneo è il suo fondo strategico essendo il tuo fondo strategico lo deve salvare o cercare di spingere per chi cambi perché io ripeto se non cambia la classe dirigente di quei paesi che cerca di cambiare la realtà interna in realtà propria non c'è salvezza per me ovvio che l'Europa ha questo ruolo però l'Europa deve avere anche la modestia di rendersi conto che nel schiacchiere mondiale sta perdendo proprio pezzi sta perdendo come ho detto prima la democrazia nostra stessa sta in pericolo dobbiamo rendersi conto che la nostra forza e la differenza tra l'Europa e gli altri paesi le altre realtà sia quelle degli Stati Uniti le grandi potenze quella cinese che qui c'è un equilibrio basato bene o male anche se uno può credere o non crederci basato su di ideali dove c'è la giustizia sociale dove c'è garantire almeno quel minimo che serve alla popolazione se noi possiamo diventare quello che contagia anche il nostro fondo strategico io credo e penso che questa può essere la via che e soprattutto questi del nord del Mediterraneo devono trovare una via che permette che non ci sia tanta differenza tra nord e sud del Mediterraneo sia a livello economico che a livello di sviluppo grazie ci sono altre domande prego lei ha giustamente parlato di due diverse sponde del Mediterraneo e di un'Europa che dovrebbe imparare a dialogare con la sponda sud del Mediterraneo vorrei aggiungere un elemento di complessità e chiederle poi una sua riflessione abbiamo due sponde del Mediterraneo ma abbiamo anche due Europe diverse abbiamo un'Europa del nord con si radici cristiane che però si sono evolute in maniera diversa rispetto a come il cristianesimo ha modificato e cambiato plasmato il sud dell'Europa all'interno della stessa Europa diciamo più mediterranea abbiamo però un ulteriore elemento di complessità che è quello di un forte nazionalismo di alcuni di questi paesi lei prima ha citato quella che secondo me è una delle più grandi catastrofe per la geopolitica mondiale insieme al ritiro dall'Afghanistan delle truppe NATO che è stato appunto l'aver distrutto la Libia di Gheddafi Gheddafi personaggio assolutamente discutibile lo sappiamo ma non possiamo come ha detto lei non possiamo avere la la presunzione e l'ingenuità di credere che la democrazia vada esportata lo abbiamo visto i tentativi di esportazione della democrazia medioriente sono falliti miseramente a questo aggiungiamo anche il fatto che questa Europa che non è davvero unita abbiamo visto Francia Inghilterra che si sono comportate da stati nazioni assolutamente indipendenti hanno tra l'altro danneggiato come diceva lei giustamente degli accordi bilaterali vantaggiosissimi per l'Italia che erano stati firmati sotto il governo Berlusconi non ci fosse stato l'ombrello protettivo dell'Unione Europea probabilmente questa cosa avrebbe provocato una crisi diplomatica molto seria in più in Europa stiamo assistendo a un'ascesa dei populismi la cui precedente probabilmente sono stati gli anni 30 del novecento situazione simile inflazione molto alta disoccupazione a livelli lo stesso altissimi e ennesimo esempio la Francia che oblitera il risultato elettorale e affida la creazione di un nuovo governo a un partito a una parte politica che non aveva avuto la maggioranza le elezioni quindi abbiamo un governo capeggiato da Barnier che non sappiamo ancora come impatterà sulla tenuta del tessuto sociale francese sappiamo i francesi hanno una grande coscienza politica soprattutto i francesi diciamo i parigini ecco perché c'è una grande differenza tra la metropoli e la Francia un po' più periferica quindi come è possibile secondo lei che questa Europa così divisa così in crisi che ha definitivamente perso il primato morale di cui si è sempre fregiata non sempre a buon diritto come questa Europa può avere la forza la lucidità e la lungimiranza di operare per un Mediterraneo unito questo è il momento che uno dice questa è la domanda di un milione di dollari questa magari avessi la risposta noi il nostro ruolo ripeto sempre il nostro ruolo giornalisti o intellettuali o persone che seguono che studiano le cose è come quello che dice attenti qui c'è l'incidente come diceva Umberto Eco tu dici questo incidente deve chiamare però i pompieri i pompieri che devono sapere dove come risolvere quel problema noi quello che stiamo cercando di dire c'è un fuoco che adesso in Europa significa che si può partire da quello che hai detto prima a livello economico abbiamo visto il rapporto Draghi che cosa dice e dove bisogna andare per continuare a fare concorrente alle due altre potenze l'Europa può essere quella potenza di equilibrio non può deve deve perché il mondo perde se l'Europa diventa altro che non è questa storia che noi conosciamo dove ha fatto parte anche la sofferenza la guerra e tutto questo è stato superato arrivando alla conclusione basta cerchiamo di mettersi d'accordo questa logica di tanti paesi che si mettono d'accordo che ragionano bene o male arrivano a qualsiasi conclusione questa logica se noi la trasformiamo a tutto il mondo se riusciamo di ora in poi invece di risolvere i conflitti con le guerre invece di ragionare qualsiasi modo ma arrivare a qualsiasi conclusione meno la guerra anche perché 2024 e la guerra non è diventata un tabù questo è una cosa grave per l'umanità però se noi abbiamo tutti questi elementi l'Europa secondo me innanzitutto deve essere cosciente di se stessa di le sue potenzialità di che l'unica salvezza è una unione vera non quello che stiamo facendo adesso un po' una sciacquata d'acqua no ogni volta no deve essere una unione vera perché l'Europa ha bisogno di essere unita e il mondo ha bisogno di un'Europa unita forte che conta noi vediamo che adesso l'Europa non conta niente è semplicemente una succorsale di un'altra potenza che noi conosciamo ma allora il discorso è dal mio punto di vista è come l'essere umano tu puoi aiutare quando sei forte quando sei bene quando hai bisogno quando non sei forte non puoi aiutare nessuno l'Europa può essere utile se l'Europa è forte così come sta andando adesso ci sta preoccupando tutti perché c'è anche una fase dove stiamo vedendo populismi che è un discorso facile anche se il problema dell'immigrazione è attenti noi non possiamo non fare avere la capacità anche di essere onesti con noi stessi il problema dell'immigrazione è un problema reale vero non è che io che sono un ipocondriaco sempre dico le società come quella nostra è una società ipocondriaca nel senso che sarà la malattia immaginaria però il dolore è reale il dolore che tu senti è un dolore vero se tu vedi che l'Europa sta andando verso questa strada perché il dolore è reale noi sappiamo che non è quello il problema però la percezione che abbiamo detto prima è molto più importante della realtà non è sufficiente dire alla gente no l'immigrazione non è un problema ma può essere un'opportunità che è vero dipende da che punto di vista è molto più facile spiegare a quello a quello che ti sceglie ogni 4-5 anni dipende dalle lezioni a spiegargli che il problema è sempre quello che viene da fuori non un problema interno allora in questa situazione noi dobbiamo spiegare per questo io insisto che l'informazione fatta bene è una salvezza tu per avere una società democratica che funziona ha bisogno di essere ben informata sia il decision maker l'opinion maker sia la popolazione quando io ti informo bene correttamente ti spiego le cose dopo tu scegli la strada che vuoi però io ti la devo spiegare io non ti posso io non posso non spiegarti che il problema vero è nel mondo in questo momento che c'è un 1% che ha dei beni nel mondo occidentale noi con il covid si sono creati 224 persone super miliardari e abbiamo creato quasi 250 milioni di poveri questo è un problema serio non l'immigrato che sta cercando di migliorare la sua vita insistendo che anche quello è un problema ma non è così grave perché noi a livello economico stiamo svuotando la nostra convivenza la stiamo distruggendo con decisioni del genere quando avremo molti ricchi e pochi e poveri e molti poveri e pochi e ricchi è un problema sociale quando avremo quando non c'è un equilibrio a livello democratico in tutti i sensi avremo un problema noi questo lo dobbiamo anticipare noi dobbiamo insistere che il fuoco noi lo vediamo e ve lo stiamo dicendo ma che deve i pompieri che devono arrivare noi li stiamo chiamando ma i pompieri sono quelli che decidono non noi per questo il nostro minimo che possiamo fare è informare bene parlo di mio caso il suo caso altre cose ognuno cerca di fare bene il suo mistiere secondo me è l'unica salvezza per il momento grazie credo che abbiamo un po' sforato il tempo grazie mille grazie a tutti di aver partecipato e grazie soprattutto al nostro ospite per averci aiutato proprio a scoprire attraverso questa analisi della complessità una quota parte di futuro grazie davvero grazie a voi grazie